È un omaggio che abbiamo fatto a Simona, però, ed è una cosa che abbiamo trovato. Bene, chiudiamo con questo omaggio. È un omaggio, poi dopo un commento però devi farlo tu. Lo devo fare io? Sì, perché se no dopo faccio io, sono sessista. Va bene, vediamo. Non c'entra niente. No, perché ho mischiato le acque. No, perché ho mischiato le acque. Tu guarda. Tom Passo, l'hai visto? No, no, no. No, l'ho visto su. È una sorpresa. No, guarda, è dedicato, ma è bello. È dedicato, ma è bello. Voglio vedere. Guarda. Vediamo. Mi chiamo Simona Ventura, ho 21 anni, vengo da Torino, ma sono nata a Bologna. Ho frequento il secondo anno di Istituto Superiore Educazione Fisica. Mi piace tantissimo quindi lo sport, che è la mia prima passione. Cioè, la seconda dopo quella di correre dietro agli uomini. Mi piacerebbe ballare, nello stesso tempo però mi piacerebbe condurre una trasmissione sportiva. Cioè, poter fare entrambe le cose per me sarebbe splendido. Però è un po' difficile. Spero di poter andare avanti e di diventare la nuova Raffaella Carvà. No, ma ti rendi conto quando si facevano questi provini? Questo è il primo provino? Sì, il primo provino di dire dietro agli uomini, ma ti giuro. Cioè, ma cosa dicevano? No, perché i provini, insomma, ti chiedevano cosa vorresti fare, eccetera, eccetera. Io ballavo, tutto quanto. Lo sport è la mia prima passione, dopo quella di andare dietro agli uomini. Ma di che? Ma cosa? Però, tralasciamo questa parte qua. Il resto è stato realizzato tutto. No, 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 c'era un pezzo del provino che non abbiamo mandato in onda che diceva che voglio partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer. Eh, certo.